benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi torna top ship la nostra playlist rubrica con le navi più potenti di world of warships in realtà è un vecchio ritorno sto parlando dell'incrociatore sovietico potentissimo petro pavlos che oggi vedremo su mountain range come avete visto sommergibile singolo da entrambe le parti niente portaerei importante gruppo da battaglia con ben cinque corazzate per lato pochi incrociatori come ormai sappiamo va di moda purtroppo nelle random battle e triple cap in linea domination con il nostro spalling sul lato sinistro è un ritorno sul canale del petro pavlos dopo tantissimo tempo l'avete già visto in recensione qui quando nella nostra playlist del cantiere navale e vide per la prima volta la luce dopo rilascio tantissimo tempo fa e poi in occasione anche di battle star in una fantastica partita di un giocatore del mio clan il petro pavlos torna oggi sul canale per due essenzialmente motivi il primo appunto è che non è mai stato inserito dentro top ship e ci va assolutamente messo perché ancora oggi è una nave estremamente potente ma soprattutto è stata nerfata ben tre volte nel corso del tempo e oggi faremo un po diciamo un riepilogo dello stato attuale del petro pavlos che è di come può giocare ancora oggi e fare la differenza o almeno cercare di fare la differenza nella random e nella rank di questo gioco il secondo motivo è legato principalmente al fatto che da qualche settimana barra mese ormai la wargaming ha rilasciato con una grossa patch la possibilità di installare il modulo leggendario questo petro pavlos monta il sesto slot speciale di classe come sapete i moduli leggendari sono alcuni moduli particolari che cambiano da nave a nave non tutti i tier 10 possiedono i moduli leggendari questi possono andare a comprare attraverso l'armeria dentro il centro riceri come sapete si può attivare e vedere solo dopo aver ottenuto diverse navi tier 10 e ogni modulo leggendario che varia attraverso anche il tipo di slot nel quale va inserito costa 19.200 punti quindi è una bella cifretta come sapete si può beneficiare del bonus per due sui punti riceri quando si resettano le linee una volta ogni tre mesi quindi diciamo che a conti fatti potreste sfruttare il bonus per al costo di appunto di una linea resettato ottenere il doppio dei punti e quindi prenderlo direttamente lì ci sono tanti moduli leggendari che avete visto nel corso del tempo alcuni vari di altri meno dipende un po dalla nave ma è un discorso che abbiamo già fatto in passato e che poi cambia appunto da unità a unità in questo punto set up particolare del petro vedrete la nave utilizzare esclusivamente o quasi esclusivamente i colpi api che tra l'altro sono uno dei potenziamenti offerti dal modulo leggendario che va anche a migliorare tra l'altro la precisione quindi la minore dispersione dei suoi proiettili a 220 particolarmente interessanti in questo inizio di partita come ho tentato il nemico si sta andando a posizionare vicino ai cap l'atteggiamento della nostra montana e della nostra slava sarà molto molto passivo e dovrò giocare ovviamente di punta sfruttando il possibile spot della iate che però si andrà a comportare in maniera piuttosto strana sul fianco e come sempre dovremmo cercare di fare la differenza al meglio puntando solo su di noi perché il supporto degli aleati sarà molto molto scarso qui la de gros sta uscendo per andare ad attaccare efficacemente la iate sapete che la de gros ha il sonar la iate esce in questo modo fa una monovra assolutamente semi suicida considerando che a quella distanza le secondarie sono potentissime ma effettua effettivamente un'ottima torpata che investe lateralmente la de gros e la cancella letteralmente se notate stiamo utilizzando benissimo le isole sulla nostra destra questo perché diamo per scontato che la proessen possa trovarci in cross sulla fiancata è fondamentale passare ad un isolotto o l'altro in questa circostanza per riuscire ad avere sempre una sorta di possiamo dire ostacolo naturale che possa non solo permettervi di andare a un spot e respirare ma soprattutto vi possa permettere di evitare magari possibili solide in arrivo sia del benson che magari del sommergibile avversario che avete visto sicuramente è da questa parte scusate intanto la tosse ma ancora è presente dicevo che sicuramente da questa parte ogni tanto spunterà perché il nostro sommergibile u 190 è esposto da questo lato e come sapete lo spawning dei sommergibili random battle è praticamente perpendicolare quindi se c'è un sommergibile solo per squadra e il vostro è dal vostro lato al 100% ci sarà anche quello avversario la proessen ora sta rallentando per dare un po' di supporto al benson che ha conquistato il cap di alfa la iate è ancora miracolosamente in vita mentre spunta nuovamente il simpatico benson sulla nostra fiancata passiamo ora con i col proiettili h e anche se comunque visto che gli ap fanno particolarmente male tra il modulo che abbiamo installato e il potenziamento della skill del comandante questi proiettili ap hanno un danno migliorato del 15% e devo dire che questo nuovo modulo è molto molto interessante per nostra fortuna il benson viene affondato dai colpi della iate ma praticamente è un trade perché si affondano a vicenda il problema è che loro da questa parte possono ancora contare sul sommergibile entra ora in azione il nostro sonar mentre entrano anche in azione i nostri bombardieri airstrike contro il sommergibile si tratta di un attacco anti sommergibile che praticamente è composto da due bombe in perù da 4900 ogni 30 secondi fino a 8 km un attacco singolo per volta comandanti per quanto riguarda il malus del modulo leggendario è presto detto il modulo leggendario del pretro dicevo migliora del 10% il danno dei proiettili ap migliora del 10% la precisione dei canoni quindi diminuisce la dispersione ma va a levarvi un consumabile per tipo questo vuol dire che avrete un sonar in meno un radar in meno e un repair party in meno ora questa cosa va assolutamente compensata con il sovrintendente ovvero il skill di sovrintendente a bordo del vostro comandante altrimenti con il modulo leggendario senza quella skill da 3 punti avrete solo e unicamente due consumabili per tipo in partita cosa che io vi sconsiglio fortemente ora se ci pensate questo piccolo handicap di elevare un consumabile potrebbe essere un grosso problema quando ci sono delle partite che durano tanto ma come sapete sia le random che le ranked battle sono ormai diciamo spesso contrassegnate dal fatto che durano poco ora se ci fate un po' due calcoli generalmente una partita 3-4 minuti iniziali per ingaggiare i primi avversari poi mettiamo di usare una carica di consumabile ogni 3 minuti ci dà un'autonomia di altri 9 quindi 9 minuti più i 4 iniziali andiamo a 13 mettiamo 2 minuti di stabilità generale andiamo a 15 quindi tecnicamente con 3 consumabili per tipo voi per 14-15 minuti avreste comunque l'autonomia della partita ecco diciamo che quindi tutto sommato è una cosa ancora sopportabile 2 sono pochissimi 3 diciamo che vanno bene 4 è il massimo ma in quel caso non potete arrivarci perché comandanti il consumabile leggendario va a levarvi quella possibilità personalmente ho trovato il modulo leggendario diciamo performante e vi posso dire che nel mio caso io sì io andrò a installarlo anche sul mio account principale questo si chiama greybaron sarebbe il nostro account da community contributor rinominato questo perché venivamo costantemente presi di mira solo perché c'era la tag del community contributor in questo caso evitiamo le rotture di scatole e tutto il resto la gente ci evita anche di farci domande banali in random battle il colpo comandanti va a stringersi molto molto bene il miglioramento della dispersione si sente come anche perché questi 220 mm comandati hanno generalmente circa 160 metri di dispersione a una distanza massima di 18 chilometri e mezzo ma con il modulo migliorano ulteriormente e anche a distanze diciamo di ingaggio medie per il petro tra i 14 e 16 chilometri diventa veramente delle volte un colpo che si chiude e si stringe tipo quello di un destroyer ed è un lusso che i 220 mm del petro godono a pieno la mancanza del radar devo dire che è abbastanza diciamo opinabile perché a volte a volte lo sentite la sua mancanza altre volte non la sentite qui vedete tra l'altro in azione l'unico vero handicap del petro pavlos ovvero la virata noi stiamo virando la virata del petro pensate 990 metri di raggio virata con un timone che risponde nella massima efficienza in 12 secondi netti qui tra l'altro stavamo rispondendo a un giocatore che mi ha fatto particolarmente arrabbiare in chat e di conseguenza abbiamo ritratato ulteriormente la virata il colpo boom centro perfetto 21.450 punti vita bruciati in questo modo i suoi 180 mm di raggio di cittadella laterale particolarmente corazzata hanno comandanti la possibilità di scheggiare molto bene anche colpi particolarmente potenti il problema è che quando siete non decentemente angolati tipo se siamo angolati perfettamente il colpo comunque in cittadella può arrivare come perché comunque la cittadella il petro è molto molto lunga anche se particolarmente corazzata tra l'altro parlavamo prima dei nerf che ha avuto il petro in questi mesi i nerf comandanti sono arrivati in tre occasioni nella prima volta hanno nerfato la ricarica dei cannoni nella seconda occasione l'hanno nerfato nel 2021 portando la ricarica nuovamente ancora in situazione più negativa scendendo da 13 a 14 secondi quindi un altro secondo di malos di ricarica poi è arrivato un ultimo nerf nel 2022 durante la patch 0.11.4 creato a nerfare il ponte centrale che da 50 è passato a 40 mm e oltre a questo c'è stato anche un alzamento diciamo della linea strutturale perché prima la cittadella era più bassa in modo che il petro potesse prendere colpi in cittadella in maniera più frequente rispetto a quello che accadeva prima qui tra l'altro potete notare un altro di incredibili lussi che ha lui il fatto che tutte le torri, dico tutte, girano a 360 gradi quando va in kiting in questo modo il Petro Pavlos è una delle navi peggiori dico peggiori che potreste ingaggiare perché se Angola in un certo modo riesce a girare le torri in un modo incredibile e di conseguenza si può spostare a destra e a sinistra come gli pare a lui e riuscire a trovare nuovamente la collimazione dei proiettili in pochissimi secondi è difficilissimo prenderlo di mira qui stiamo risparmiando l'ultimo radar mentre siamo arrivati nella seconda parte della partita perché effettivamente lo Shimakaze c'è ormai vicinissimo e sappiamo bene che non sarà così stupido da avvicinarsi in un certo modo sapendo che noi abbiamo un radar a disposizione avete visto come il colpo a piede 220 entra che è una goduria sulla corazzata l'affondamento della proiezione ormai è praticamente cosa fatta tra l'altro un'altra cosa assurda di questa nave sono le sue balistiche 990 metri al secondo di velocità del colpo colpire anche a distanze importanti è effettivamente uno scherzo perché il colpo è talmente veloce che anche un giocatore con poca esperienza potrebbe colpire a lunga distanza trovando colpi interessanti proprio per questo io consiglio sempre il Pietro come una delle linee cruiser iniziali da utilizzare perché oltre ad essere estremamente potente è anche una nave estremamente facile da utilizzare almeno diciamo nei rudimenti per un giocatore con poca esperienza su World of Warships abbiamo completamente fatto tra virgolette il culetto a strisce a tutti gli avversari sul nostro fianco lo shimakaze è sempre rimasto molto lontano per evitare i nostri colpi qui lo troviamo con un colpo a che lo spediamo un po' in fuga gli mandiamo anche in avaria il motore abbiamo controllato praticamente quasi dall'inizio il cab dopo che è stato affondato il Benson il problema comandanti è che loro hanno controllato benissimo il lato destro hanno ucciso tutte le nostre navi a parte l'ezumo che sta sfuggendo per la parte finale della parola della nostra lato sono morti quasi tutti tranne la montana che è finita contro l'unica isola dove non poteva andare a schiantarsi ma l'unica isola più grande che va di fronte è la centrata in pieno giocatori molto strani qui tramvata laterale sul Nevsky che sta anche tra l'altro rallentando ogni tanto la ballestica ci fa brutti scherzi qui sembrava un colpo netto in cittadella invece 4 overpen anche qua ogni tanto l'RNG si comporta in modo strano potete vedere il fatto di avere tantissimi vantaggi legati ai colpi EP migliorati va di fatto a limitarvi la presenza dei costabili siamo mai rimasti quando mancano 8 minuti alla fine con un solo ricarica di repair party un solo sonar tra l'altro il radar come sapete bene è già andato il radar diciamo del petro lo conoscete molto bene è il classico radar a 12 km anche se va detto che nel caso del petro ha una durata di soli 18 secondi molto inferiore con il modulo tra l'altro a carbone rispetto alla durata di un radar ad esempio di un Mosqua o di un Donsquay che vanno alla stessa distanza ma durano effettivamente molto di più anche qua scelta di nerf voluta dalla Wargaming a questo punto ci aspetta un finale di partita molto molto combattuto il Petro Pavlos che avversario si sta avvicinando la nostra Eizumo è full broadside rispetto a lui cosa da non fare mai a quella distanza perché i colpi del Petro Pavlos possono fare malissimo anche sull'Igbattship e tra poco vedrà una dimostrazione contro la Conqueror avversaria arrivano anche i siluri dello Shima che preferisce colpire ovviamente la Corazzata che è molto più vulnerabile rispetto a noi e con il sonore attivato in questo istante andiamo poi a riconquistare il club di Alfa per cercare un attacco finale 1 contro 3 Petro Pavlos contro Shimakaze, Conqueror e Yamato una sfida mostruosamente impari per noi ma se c'è una nave che può riuscire a ribaltare risultati di partita così precari con un disavanzo di oltre 500 punti come potete vedere in alto quella comandanti è proprio la grandissima Petro Pavlos qui ovviamente giochiamo solo di prua cercando di far lavorare benissimo il nostro timone per quello che può fare perché diamo per scontato che non appena viriamo a destra o a sinistra la Yamato riuscirebbe a trovarci in crossfire l'obiettivo è non dare mai il broadside né alla Conqueror né alla Yamato cercando di anche cambiare un po' la velocità dei motori perché lo Shimakaze sicuramente ci prenderà presto di mira con i suoi potenti 610 mm qui la Conqueror sta facendo quello che non va mai fatto con quella nave contro un Petro Pavlos ovvero accorciare e utilizzare i proiettili AP perché contro il Petro vi assicuro che la Conqueror funziona molto molto meglio con i proiettili incendiari lui è convinto di poterci sventrare e continua ad avvicinarsi soffrendo le piene dell'inferno a bordo di questa nave tra l'altro c'è Kudnesov quindi anche se abbiamo ormai terminato i nostri consumabili in ogni caso potremo vendere cara la pelle fino alla fine qui stiamo rallentando perché diamo per scontato che potrebbero arrivare prima o poi i siluri il Sonoro ormai è andato completamente in countdown la Conqueror a questa distanza è cittadellabile e ora tra poco lo saprà anche lei andiamo leggermente verso destra per evitare gli scontati siluri dello Shimakaze che arrivano adesso e giù di brutto contro il Broadside della Conqueror guardate un po' ragazzi fa malissimo questa distanza tra l'altro con i proiettili AP migliorati sono il 15% di danno su ogni salva che dà un bel bonus un bel boost al vostro munizionamento arrivano i Caliber e Comfort a Rimortio arrivano anche i siluri purtroppo dello Shimakaze vi spoiler che riusciremo a uccidere la Conqueror precedentemente ma non potremo fare assolutamente niente contro i 610 cercato perché sarebbe stata bella la sfida Pietro Pavlos contro la Yamato e la Conqueror senza i siluri vi sicuro che avremmo potuto affondare anche la Yamato comandanti quasi 230.000 danni 4 kill diverse cittadelle quasi 200 colpi a segno con 2 medaglie se guardate il team score è piuttosto importante abbiamo fatto quasi 1700 praticamente più del terzo in classifica della squadra che ha vinto quasi pari al secondo della squadra che ha vinto da questa parte a parte la Montana che ha fatto un po' qualcosa di inerso la squadra è praticamente non pervenuto è molto strana le scelte di Zumo, IOI, Preussen avete visto infatti che alla fine erano rimaste due navi da battaglia avversari in vita il nostro reparto batteci è completamente mancato guardate tra l'altro il danno tankato quasi 2.400.000 danno tankato sono numeri che solitamente si vedono solo sulle corazzate le abilità del Pietro Pavlos da questo punto di vista sono assolutamente straordinarie questi sono i moduli e le skill consigliate per il setup per chi volesse farlo con i moduli con il modulo leggendario sul stesso slot quella è l'icona effettivamente che si può vedere quando lo andate a sbloccare con 19.200 punti ricerca appunto del search bureau ovvero il centro ricerca è un setup molto diverso rispetto a quello dei normali incrociatori perché siamo andati a potenziare anche i proiettili AP cosa che io non faccio quasi mai a livello skill cruiser ma se avete visto prima il Pietro con questo setup utilizza quasi esclusivamente i proiettili AP a parte quando magari deve colpire sui destroyer che come sapete subiscono maggiori danni e incapacitazioni quando vengono colpiti dai proiettili HE abbiamo poi fatto il classico setup di miglioramento delle torri ma quello è un punto che tecnicamente potrebbe anche non starci perché le torri come sapete girano a 360 gradi effettivamente poi il miglioramento devo dire che con Kuznetsov del 10% della ricarica sui consumabili sonare radar dà una bella mano per quanto riguarda avere l'autonomia nel corso della partita il sovrintendente è una scelta obbligata altrimenti i consumabili scendono solamente a 2 quindi se volete il modulo leggendario quella skill da 3 punti va per forza messa lì se notate il modulo leggendario appunto ha questi due bonus che vi dicevamo prima più 10% sul colpo AP e meno 10% alla dispersione quindi due bonus attivi positivi il malus è che i consumabili scendono di 1 quindi 2 se non avete il sovrintendente 3 con il sovrintendente a bordo è una scelta effettivamente che mi sento di promuovere anche se i comandanti posso capire che per un giocatore nuovo 19.000 punti di ricerca possono essere parecchi anche perché con 60.000 ti porti a casa una delle battesci o poco più di 60.000 ti porti a casa una delle due grandi battesci del centro ricerca ovvero la Slava o l'Ohio con questa seconda da preferire sulla Slava e quindi posso capire che non tutti possono permettersi una cifra del genere ma per i veterani che magari hanno già con le navi o non giocano le battesci vi posso assicurare che questo modulo lavora molto 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 bene quindi per me assolutamente scelta promossa un'ultima cosa comandanti riguardante il resto dei moduli per il resto è una scelta obbligata propulsion per essere maggiormente potenti nella fase di accelerazione quando ci faremo vicino agli isolotti o giochiamo a ridosso della prima linea il tiro migliorato per migliorare comunque la precisione all'interno all'interno e poi il radar migliorato perché comunque come sapete il radar di base del petro è piuttosto breve di durata come dicevamo prima è una nave straordinaria è ancora forte ancora oggi assolutamente si meritava un posto all'interno di top ship perché è uno degli incrozzatori più forti del tier 10 ed è per questo che viene spesso o è stato spesso bannato passato all'interno delle competizioni e dei tornei oltre che ogni tanto essere limitato nelle clan battle ultima cosa per quanto riguarda la differenza random ranked e tornei allora nelle random ranked il setup che state vedendo è assolutamente attuabile ma anche se voleste giocarlo senza il modulo leggendario con il classico modulo della ricarica migliorata il petro continua ad andare bene nel caso delle competitive molto spesso si tende a utilizzare il modulo che aumenta l'agitata dei cannoni quindi diciamo che nei tornei e nelle clan battle dipende un po' quello che è il compito del comandante che assegna alla singola nave nel caso in cui dobbiate attaccare anche a lunga distanza il modulo leggendario non vi servirà a nulla quindi diciamo che è una preferenza per chi gioca per lo più random e ranked battle come ha detto il comandante Kuznetsov è fortemente indicato su questa nave ma se non ce l'avete comunque anche un normale comandante sovietico fa comunque il suo onestissimo lavoro come sempre vi ricordo che sul finale di partita noi siamo all'entro settimana su Twitch dal lunedì al venerdì a volte anche al sabato dopo le 20 quindi sono tutti i vantaggi che si possono ottenere se deciderete di supportare il canale con il vostro Amazon Prime vi ricordo che con Amazon Prime e collegandolo a Twitch ottenendo quindi Prime Gaming l'abbonamento dura 30 giorni non costa assolutamente nulla si deve poi rinnovare altri 30 giorni se volete continuare a darci una mano bastano sempre i due click ed è sempre a costo è assolutamente gratuito per chi invece volesse proprio fare il super generoso e darci una mano comunque l'abbonamento mensile costa 4 euro quindi un euro a settimana diciamo che è un pacchetto di sigarette ecco però in quel caso dovete per forza di cose metterci dei soldi ogni mese se volete darci una mano un grazie sempre enorme a tutti quelli della Blaze Squad che supportano ogni mese le nostre iniziative e ci permettono di fare sempre video migliori ed essere presenti qui nel mondo dei mari di World of Warships signori spero che il video comunque vi sia piaciuto Petro Pavlos con modulo leggendario in Top Ship io e il Barone Grigio vi diamo un nuovo appuntamento la prossima settimana probabilmente lunedì con un nuovo video se è sottoscritto ed è l'ammiraglio del Lago di Garda signori buona caccia grazie a tutti